Nome e cognome? A Rigogiana Età? 51 Dove vivi? A Milano La tua esperienza professionale in meno di un minuto? Allora, mi sono laureato in Bocconi, finita la Bocconi ho fatto il consulente di direzione per qualche anno, poi sono entrato in azienda in DHL International facendo il responsabile del controllo di gestione. Da lì sono passato in ATM come CFO, sono rimasto in ATM come CFO per circa 10 anni, sono uscito da ATM, mi sono occupato di ristrutturazione del debito, poi ho fatto l'amministratore delegato di Cotral, che è l'azienda di trasporto della regione Lazio, dimostrando che anche le aziende pubbliche più compromesse possono essere risanate e da lì sono rientrato in ATM come direttore generale. Lasciaci la tua pillola di saggezza. La mia pillola di saggezza è questa, ogni volta che ci si trova a prendere una decisione nel proprio intimo uno sa sempre qual è la cosa giusta e qual è quella sbagliata. Il mio consiglio è fare sempre la cosa giusta, alla fine paga sempre.